Gli ex amministratori di ACC Compressor, Luca Ramella, Paolo Pecorella, Fausto Cosi e gli ex sindaci Marco Baccani, Luigi Provaggi e Alberto Borrelli sono stati ritenuti responsabili di malagestio della Corte d'Appello di Milano, che in queste ore ha reso nota la sentenza che li condanna a risarcire alla procedura di amministrazione straordinaria, un danno quantificato in oltre 4 milioni e 100 mila euro, oltre al rimborso delle spese legali per quasi 168 mila euro. Si ribalta così la sentenza del Tribunale di Milano che nel febbraio del 2011 aveva rigettato le domande risarcitorie per il disesto del patrimonio industriale e occupazionale dell'ex Zanussi Elettromeccanica e del suo stabilimento di Mel, ridotti all'insolvenza dopo avere dominato i mercati mondiali. Certo, ci sono voluti 10 anni per avere giustizia, ma la soddisfazione del commissario straordinario Maurizio Castro è grande. Dopo incertezze e ambiguità, afferma in una nota, si riconosce che quel disesto, stimato in 450 milioni di euro, fu cagionato da condotte fortemente inappropriate adottate dai loro amministratori. Soddisfazione condivisa anche dalla FIOMA CGL di Belluno. È una vittoria di verità ma non di giustizia. Sono passati 10 anni da quegli anni, dal 2013, e quindi è passato molto tempo e credo che anche ricondurre a giustizia questa vicenda sarà complicato. È certamente però per noi una vittoria importante perché ristituisce verità alla vicenda e ristituisce anche dignità, secondo noi, ai lavoratori e lavoratrici che dopo quegli eventi hanno passato una stagione difficilissima, complicatissima. Si riafferma una verità storica, quella dell'ex Zanussi, ceduta nel 2003 a un pool di fondi speculativi riconducibili alla galassia di Goldman Sachs e di alcune finanziarie italiane. 10 anni durò quella gestione spericolata fino alla dichiarazione di insolvenza, l'entrata in amministrazione straordinaria e la cessione nel dicembre del 2014 ai cinesi di Wambao. Il resto è storia dei nostri giorni e come è finita anche l'avventura guida orientale è noto, ma per l'ex ACC a gestione ramella i guai giudiziari non si sono ancora conclusi. Il prossimo 4 ottobre attesa a Trieste l'udienza d'appello del troncone che riguarda il processo penale a carico degli stessi ex amministratori e ad affiancare il commissario Castro quali parti civili ci saranno la Regione Veneto e la FIOM CGL. Noi abbiamo sempre creduto di affiancare il commissario straordinario in questa vicenda perché siamo sicuri che la verità è quella che è stata sancita dalla sentenza di Milano e quindi le responsabilità sono precise e andavano perseguite anche dal punto di vista giudiziario. Rimaniamo nel processo e auspichiamo che anche il processo penale possa avere un esito positivo ed eventualmente anche il terzo grado di giudizio possa confermare la sentenza di ieri della Corte d'appello.